Buongiorno amici di YouTube, benvenuti a una nuova top 5, sempre qui sul canale del Blando Show. Oggi di cosa parliamo? Oggi parliamo dei 5 palazzi più alti al mondo nel 2015. Al numero 5 troviamo Taipei 101. Taipei 101 ovviamente si trova a Taipei, Taiwan. Concluso nel 2004 è costato ben 1 miliardo e 934 milioni di dollari. Alto 509 metri e 101 piani. Al numero 4 troviamo il grattacielo più alto dell'occidente, ovvero il One World Trade Center. Ovviamente si trova a New York dove erano prima collocate le due torri gemelle. Concluso nel 2012 è costato 3,9 miliardi di dollari. È alto ben 541 metri e ha 104 piani. Palazzo molto importante sia per il significato che anche dal punto di vista architettonico. Infatti la forma è stata studiata per evitare oscillamenti da parte del vento. Al numero 3 troviamo Abraj al-Bait. Chiedo scusa in anticipo per la mia pessima pronuncia. Abraj al-Bait si trova alla Mecca, in Arabia Saudita. Concluso nel 2011 è alto ben 605 metri. È la torre di un orologio più alta al mondo. Ben 95 piani per questo gigante. Costato ben 15 miliardi di dollari. Al numero 2 troviamo la Shanghai Tower. La Shanghai Tower è molto importante. A Shanghai si sta iniziando ad esaurire lo spazio per costruire e anche per vivere. Il progetto della Shanghai Tower è una vera e propria città in verticale. Appartamenti, giardini, hotel e anche posti di lavoro. Direttamente tutti dentro alla Shanghai Tower. Grazie ai giardini sarà aria pulita. Problema serio per gli abitanti di Shanghai e anche della Cina. Alto ben 632 metri e alto 122 piani. E' stato concluso nel 2013. Costato ben 2 miliardi e 400 milioni di dollari. Al numero 1 troviamo ovviamente il Burj Khalifa di Dubai. Alto ben 828 metri, quasi un chilometro rendiamoci conto. Con ben 163 piani. Uno dei palazzi più lussuosi in assoluto al mondo. Costato 1 miliardo e 500 milioni di dollari. E' stato concluso nel 2010. Voi cosa ne pensate? Qual è il vostro palazzo preferito in assoluto? Scriveteci la vostra top 5 con i 5 palazzi preferiti. Se volete proporci qualche top 5 scrivetelo nei commenti. Lasciate un bel mi piace, condividete questo video. Iscrivetevi al canale per molte altre top 5 sempre qui sul canale del Blando Show. Ciao a tutti! 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 Grazie.